Ciao da Avsim! Juventus-Lazio questo sabato 6 marzo alle 20.45 dunque su Dazon, un'altra partita che non possiamo assolutamente non vincere con la Lazio che è in un momento discreto un po' come il nostro ma non ha assolutamente la nostra classifica e quindi se fino a qualche mese fa si sarebbe trattato di uno scontro diretto adesso non lo è con la Lazio che tra l'altro ha una partita in meno come noi da questo punto di vista volendo guardare la classifica ma noi dobbiamo proiettarci sicuramente un po' più in alto parliamo allora di questa partita con tutti i dettagli le statistiche la tattica gli indisponibili le formazioni e le parole di Andrea Pirlo che potete leggere in versione integrale trascritta da me sul mio sito avsim.video link in descrizione così come c'è anche il link alla mia chat telegram mio canale telegram al mio canale instagram per notizie flash approfondimenti e commenti ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale attivando le notifiche per non dimenticare i prossimi appuntamenti e contenuti tra cui il post partita di Juventus-Lazio live pochi minuti 2-3 al massimo dopo il fischio finale quindi tutti quanti qui con la chat aperta però solo agli abbonati quindi valutate anche i vantaggi dei piani di abbonamento Juventus-Lazio è una partita complicatissima per la Juventus inutile dirlo anche perché dobbiamo andare poi a giocare contro il Porto dopo pochi giorni e quindi abbiamo anche un carico emotivo un carico psicologico importante il tutto acuito dalle assenze l'ultima delle quali Bentancur che è risultato positivo due giorni fa e per ieri almeno non ci sono stati ulteriori campanelli d'allarme cioè nella giornata di ieri la Juve non ha comunicato nulla il che vuol dire che non ci sono nuovi positivi ovviamente siamo anche in attesa di ulteriori test dell'esito di ulteriori tamponi però diciamo che possiamo quasi essere un po' ottimisti nel dire dopo un giorno è venuto fuori solo Bentancur e altri non ce ne sono speriamo che non se ne aggiungano davvero altri perché insomma abbiamo delle assenze incalcolabili a questo punto si fa quasi fatica a ricordare tutti quelli che sono fuori Pirlo ha parlato anche di questo ma vorrei soffermarmi prima su altri aspetti della conferenza stampa di Pirlo che non mi è piaciuta ma non voglio star qui a criticare visto che molti di voi dicono che io sono ipercritico che non dobbiamo esagerare perché Pirlo è stato anche sfortunato tante assenze eccetera eccetera quindi vi racconterò dal punto di vista oggettivo come è andata la conferenza stampa senza aggiungere dei miei commenti negativi visto che a qualcuno danno fastidio e cioè Pirlo è stato oggettivamente palesemente nervoso si è innervosito ancora di più quando Guardalai ha riportato le parole di Sacchi a Gazzetta dello Sport secondo il quale i giovani di questa Juventus sono entrati in un contesto che ha rinnegato la storia e i valori del glorioso club Juventus cioè i giovani sono entrati in un contesto che è stato contaminato dai veterani quindi Sacchi ce l'ha con i veterani non con i giovani i quali magari avranno anche lavorato bene però sono entrati in una Juve diversa Pirlo ha detto che i giovani stanno lavorando benissimo e che i veterani hanno sempre dato e continuano a dare una grossa mano questa è stata la sua risposta un po' stizzita così come stizzito si è mostrato quando ha interpretato forse anche male il discorso che all'inizio tutti gli reclamavano il fatto di dover far giocare di più i giovani adesso invece i giovani non vanno bene in realtà non credo che qualcuno abbia detto che i giovani della Juve non vanno bene anzi e dopo parliamo di formazioni dovrebbe farli effettivamente giocare un po' di più poi ha parlato appunto delle sue opzioni di formazione a centrocampo credo ci sia ballottaggio Ramsey-Fagioli come interno o forse McKennie-Fagioli ma credo che Fagioli non giocherà cioè non è una opzione veramente considerata da Pirlo così come Dragusin non abbiamo praticamente dei centrali perché De Ligt non si è allenato in questi giorni Bonucci viene da 16 giorni di inattività Chiellini è del tutto out quindi abbiamo solo De Miral ma di formazioni parlo dopo più che altro è quell'approccio e l'interpretazione di Pirlo dei giocatori a disposizione che non mi convince molto ah no scusate non dovevo esprimere giudizi negativi perché Pirlo non si deve criticare quindi andiamo avanti semplicemente mi limito a sottolineare quello che ha detto e ha detto tra l'altro non possiamo fare una partita a 100 all'ora per 90 minuti quindi dovremmo fare una partita molto intelligente il che tradotto vuol dire una partita difensivista come l'abbiamo fatta nella gara d'andata che ci è valso un pareggio perché non siamo riusciti ad attaccare a segnare quella tra l'altro fu una sorta di enclave in un contesto di una Juve che tatticamente era proattiva era propositiva invece adesso veniamo da più partite in cui la Juve ha un atteggiamento difensivista poi sarebbe interessante capire quando mai la Juve e la Juve di Pirlo è andata a 100 all'ora anche solo per 10 minuti così per regolarci sul fatto che 90 sarebbero troppi effettivamente ma magari farne veramente almeno 10 sarebbe già un grosso vantaggio Pirlo che ha detto i problemi casomai sono di natura tecnico-tattica il mio approccio tecnico-tattico mi dà fastidio quando si dice che la squadra non ha grinta non ha motivazioni forse perché si sente anche un po' appicciocato addosso questa etichetta di persona di allenatore, di professionista poco grintoso lui per primo fatto sa che può darsi che abbia ragione ed effettivamente le problematiche della Juve sono tecnico-tattiche il che però vorrebbe significare che o Pirlo non è abbastanza bravo nell'aspetto tecnico-tattico oppure che è talmente bravo che la gente poi non capisce quello che sta facendo insomma vabbè qui andiamo sull'interpretazione un po' fumosa dall'altra parte molto brevemente Simone Inzaghi ha detto semplicemente che dovrà la Lazio fare la gara perfetta e che arriva a questa partita in un momento perfetto vista anche la situazione della Juve ma d'altra parte ci sono delle assenze anche nei bianco-celesti che pesano dal punto di vista delle opzioni tattiche anche per Inzaghi e vediamo allora le statistiche di questa Lazio una Lazio che dicevo è settima in campionato ha conquistato fino a questo momento 43 punti una partita in meno, ne hanno giocato 24 come pure noi e hanno fatto 9 punti nelle ultime 5 gare 38 sono i gol segnati, 32 i gol subiti con un prospetto di expected goals cioè goal attesi, fatti e subiti secondo Understat che vedrebbe la Lazio aver segnato 34 goal quindi ne hanno segnati circa 4 in più del dovuto ma subirne esattamente 32 quindi una Lazio che potrebbe subire un po' meno per essere un po' più efficiente in difesa ma per quanto riguarda la produzione offensiva sta abbastanza bene sempre Understat ci dice la capacità di riaggressione della Lazio con il dato PPDA, cioè i passaggi consentiti all'avversario nella propria metà campo prima di intervenire a recuperare il pallone sostanzialmente la riaggressione dei 5 secondi e quindi andare a cercare di recuperare la palla la Lazio ha 10 in riaggressione e 12 in riaggressione subita numeri buoni e abbastanza equilibrati che si traducono poi in specifici interventi difensivi secondo Huskord di 17 contrasti a partita primo posto in Serie A per la Lazio e 13 intercetti, sesto posto laddove la Juve è decima per contrasti, 15 e ottava per intercetti, 13 quindi molto vicino in realtà al pari merito per quanto riguarda gli intercetti con la Lazio che poi è una squadra che non fa possesso e lo sappiamo 51% e mezzo, sesto posto in Serie A la Juve è ormai da diverse settimane scesa al secondo posto con 56 dietro il Sassuolo mentre prima erano state spesso appaiate o la Juve al primo posto primo posto invece è mantenuto per la Juve per passaggi a partita 575, la Lazio è settima con poco più di 500 502 e la precisione vede la Lazio a metà classifica sono ottavi con l'83% perché fanno questo gioco di velocità nello spazio questo gioco di risalita del campo la Juve invece è prima con l'88% di precisione tirano però anche questo da metà classifica la Lazio, ottavo posto, 13 tiri totali è settimo per i tiri in porta 5, la Juve invece è terza o quarta terza per tiri totali 16, quarta per tiri in porta 6 per quanto riguarda i tiri subiti Lazio e Juventus sono esattamente allo stesso livello cioè subiscono circa 11 tiri a partita ma come? Qual è la qualità dei tiri subiti della Lazio? la Lazio subisce sostanzialmente tiri dalla fascia centrale e dalla fascia prevalentemente sinistra del campo prevalentemente dentro la propria area di rigore ma non tanto nell'area piccola invece per quanto riguarda i tiri effettuati la Lazio tira molto da sinistra che è la fascia che sfrutta di più anche per costruire il gioco offensivo per attaccare ma tira spesso non solo nell'area avversaria anche nell'area piccola la Lazio dopo il Verona è la seconda squadra in Serie A, secondo Huskord per percentuale di tiri effettuati dentro l'area piccola avversaria quindi dobbiamo stare molto attenti tra l'altro sono bravi anche a segnare su calcio piazzato dove noi siamo deboli sia su gol subiti che soprattutto su tentativi di gol fatti inoltre hanno un baricentro medio perché tra l'ottima strenua fase difensiva anche abbastanza affollata con il numero di uomini e la riaggressione o meglio la ripartenza che spesso fanno di cui ha parlato anche Pirlo brevemente in conferenza stampa vanno ad equilibrare la distribuzione dei tocchi di palla questo per quanto riguarda gli aspetti tattici ma voglio ancora di più sottolineare la partita intelligente di cui ha parlato Pirlo a me spaventa perché la partita intelligente non possiamo andare a 100 all'ora significa che vedremo una partita con lo stesso approccio che abbiamo visto contro il Porto cioè una Juve lenta lenta, lentissima circolazione della palla lenta baricentro ribassato più uomini in zona arretrata per stanare un po' la Lazio ma senza la capacità di riaggredire poi velocemente se non con il contropiede che è un'arma che noi potremmo avere ma non abbiamo affinato e comunque non è un'arma sempre efficace perché per giocare di contropiede devi avere giocatori precisi all'andata proprio di contropiede abbiamo giocato quanti gol abbiamo fatto? uno quanti ce ne siamo mangiati? tre o quattro com'è finita? uno a uno quanti punti abbiamo fatto? uno quanti ne abbiamo persi? due questi sono fatti e speriamo che si possa fare diversamente in questa partita ma viste le premesse tra assenze e la paura a questo punto di Pirlo che tira un po' i remi in barca non sono molto fiducioso ditemi la vostra ma prima passiamo attraverso gli assenti e alcuni ragionamenti di formazione gli assenti della Lazio sono stati annunciati da Simone Inzaghi in conferenza stampa e sono Lazzari Felipe e Radu sono tre assenze ha detto Inzaghi importanti perché faranno fatica a sostituirli in campo con altri giocatori che possano rendere la stessa maniera gli assenti della Juve sono da record abbiamo Frabotta squalificato che potremmo anche sorvolare perché gioca pochissimo però è comunque un giocatore che in questo momento sarebbe magari anche tornato utile vista la difficoltà di reperire i giocatori nel pacchetto arretrato poi Vendacur positivo Artur non ce l'ha ancora fatta Dybala non ce l'ha ancora fatta a recuperare non si sa quando rientrerà Chiellini è sicuramente out poi siamo alla probabilità per Delict Bonucci e Quadrado in realtà Quadrado dovrebbe partire addirittura titolare quindi possiamo toglierlo su Bonucci e Delict abbiamo incertezza quindi diciamo che balliamo tra 5 assenti di minimo fino a 7 di massima che sarebbe eguaiato il record stagionale di assenze nella singola partita da parte della Juventus potrei aver dimenticato qualcuno perché veramente ci sono assenze a raffica e ogni partita sono sempre tante e questo dicevo è sicuramente una sfortuna è sicuramente un fattore nella stagione di Pirlo però ci sono partite in cui lo puoi anche utilizzare come alibi e partite in cui no e io ritengo che l'alibi possa essere dell'assenza quando l'assenza è imminente rispetto alla partita ma non quando sono già due giorni che sai che un certo giocatore non ce l'avrai non lo so qual è la situazione attuale perché Pirlo non ha anticipato moltissimo oggi ne sapremo di più con la lista dei convocati che troverete tempestivamente sul mio profilo Instagram quindi vi ribadisco andatelo a seguire e anche nel mio canale Telegram per notizie flash veniamo allora alla formazione della Lazio e poi a quella ragionata ragionata della Juve Reina in porta Marusic Hutt e Acerbi nella linea a tre di difesa a centrocampo Lulic Milinkovic Savic Leiva Luisa Alberto e Fares e Correa Correa e Immobile in attacco Correa sarebbe Felix della Juve che non credo sarà convocato anche perché con la Juve in bolla con la positività di Bentancur credo che non possa uscire né entrare nessuno di quelli che sono stati e non sono stati convocati dall'Under 23 nelle passate partite da parte di Pirlo formazione della Juve allora Cesney tra i pali non ci sono dubbi in difesa se sta bene io quadrato lo metto perché contro la Lazio serve assolutamente uno che ti faccia la fascia in velocità quindi se quadrato sta bene per me titolare perfetto in difesa Demiral e Dragusin signori miei Demiral e Dragusin non perché io adesso voglia fare le barricate per i giovani o quant'altro ma vi pare che contro la Lazio ammesso che facciamo una partita un po' di rimessa ma pure che comunque andiamo a costruire possiamo giocare con un unico centrale Demiral e due terzini adattati Danilo e Alexandro onestamente no cioè che difesa è Demiral e Dragusin al di là che Pirlo ha detto noi partiamo sempre con la linea di difesa a quattro in non possesso poi a volte in costruzione siamo in tre a volte siamo in quattro a volte in due cioè due più uno nel senso due centrali e si abbassa di solito Bentancur che non c'è e quindi che razza di difesa sarebbe in fase di costruzione Danilo Demiral Alexandro non credo che abbia molto senso quindi io direi Demiral e Dragusin con a questo punto Danilo dall'altra parte che avendo fatto un turno di riposo per squalifica è un po' più fresco rispetto ad Alexandro e Danilo a sinistra gioca benissimo non fa assolutamente rimpiangere Alexandro né far rimpiangere il Danilo di destra quindi per me la difesa dovrebbe essere questa a centrocampo ovviamente va Chiesa a sinistra se metti quadrato a destra problema perché per me Chiesa gioca molto meglio a destra e non solo per me a quanto leggo dai commenti però facciamo di necessità virtù in questo senso il problema vero sono gli interni di centrocampo se metti Chiesa da una parte dall'altra parte puoi mettere McKennie o Ramsey Ramsey perché McKennie non sta bene deve riposare se può saltare una partita intera è meglio l'ha detto Pirlo ogni volta che gioca gli si riacutizza il problema all'anca sta stringendo i denti ma lo vedete che McKennie non ne ha più non ce la fa va in campo non riesce a giocare bene facciamolo stare in panchina quindi Ramsey a destra chi metti come interni Rabiot e Fagioli Rabiot e Fagioli Fagioli cioè perché non deve giocare Fagioli perché dobbiamo mettere McKennie interno che ormai ha smesso di fare l'interno perché ha altre caratteristiche come ha poi capito successivamente capito Pirlo Fagioli Fagioli corra più e in attacco Kuzeschi Ronaldo perché Morata non ha ancora i minuti per partire titolare e questa credo sia la situazione questa è la mia formazione ragionata ma non è la formazione che sarà perché molto probabilmente ci saranno invece Danilo Terzino Terzino no Danilo interno di difesa con Alexandro a sinistra quindi Danilo di fianco a quadrato con Demiral spostato sul centro-sinistra e Alexandro dall'altra parte e al centrocampo Ramsey sull'esterno e McKennie interno o viceversa poi Rabiot e ovviamente l'attacco che è quello lì molto probabilmente vedremo anche quali saranno i convocati sperando che non ci siano ulteriori assenze anzi che qualcuno possa recuperare vedasi Bonucci vedasi confermato magari il recupero di quadrato eppure tutto sommato andrebbe benissimo De Ligto quanto meno in panchina ho detto tutto quello che c'era da dire credo su Juventus Lazio di stasera e quindi vi lascio lo spazio dei commenti anche per il vostro pronostico grazie dunque per l'attenzione buon dibattito nei commenti like al video se vi è piaciuto condividetelo con chi è interessato a tutte le informazioni su Juventus Lazio e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere in particolare il post partita di stasera ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti